Il 28 settembre ricorre la festa della Beata Vergine Maria che scioglie i nodi, nel quale si ricorda il primo nodo sciolto per intercessione dalla Mamma nostra e di Gesù. Rendiamo omaggio a Maria in questo giorno solenne, dedicandole una preghiera di ringraziamento e chiedendo di non abbandonarci mai. Maria ascolterà le nostre suppliche e ci aiuterà a sciogliere i nodi che ostacolano la nostra vita e che ci rendono la vita infelice. Maria è una madre amorevole che non abbandona mai i propri figli e solo per sua intercessione potremo ottenere da Dio le grazie che tanto desideriamo. Non perdete mai la speranza e la fiducia e ricordate che Maria è la madre del Salvatore. Cristo, senza dubbio, le obbedirà in ogni momento. Quindi non abbiate paura se la vostra situazione è diventata molto impigliata. Lei non ti lascerà mai solo. Solenne preghiera a Maria per slegare i nodi della tua vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Maria, piena della presenza di Dio, durante i giorni della tua vita hai accettato con tutta umiltà la volontà del Padre e il maligno non è mai stato in grado di distrarti. Già insieme a tuo Figlio hai interceduto per le nostre difficoltà e con tutta semplicità e pazienza ci hai dato un esempio di come districare la matassa di nodi della nostra vita. E rimanendo per sempre come Madre nostra, tu ogni giorno metti ordine e rendi più stretti i legami che ci uniscono al Signore. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, tu che con cuore materno sciogli i nodi che ostacolano la nostra vita, ti chiediamo di accoglierci nelle tue mani e di liberarci dai vincoli e dalle distruzioni con cui ci tormenta colui che è il nostro nemico. Con la tua grazia, con la tua intercessione, con il tuo esempio, liberaci da ogni male, cara Madonna che scioglie i nodi, che ci impediscono di unirci a Dio, affinché, liberi da ogni angoscia e sofferenza, possiamo ritrovare Dio in ogni cosa e possiamo sempre servirlo dei nostri fratelli. Amen. Preghiera da recitare tutti i giorni dell'anno Santa Vergine Maria, con lei che sciogli i nodi più aggrovigliati, il Signore è con voi e con voi l'umiltà. Madre di Dio, tu, Mediatrice, che non sei mai caduta, che non ti sei mai impigliata, non lasciarci cadere in nessuna tentazione e liberaci da ogni male. Vergine della pace, disarma i nodi dei miei nemici, affinché nessuno possa farmi del male. Aprite i loro cuori, perché possiamo condividere insieme l'amore di Gesù. Proteggimi da qualsiasi pericolo. Cuore di Maria, protezione della nostra famiglia, tieni lontani le malattie da me e dai miei cari. Maria, Madre del Salvatore, sciogli il nodo della rabbia, del dolore, dell'indifferenza, dell'ingiustizia e di tutti gli altri nodi che noi stessi creiamo nelle nostre famiglie. Donaci la forza con il simbolo di Cristo di camminare su questa terra in pace e armonia. Amen. Grazie a tutti.